Ehi, ma dove si va? No ragazzi, tanto più di due minuti non passa il treno. Questo 30 secondi e ti passa. Ve lo posso assicurare. Eeeh, qua ci sono le poste, eh. Nico. E ritroviamo. Guarda che se metto la macchinetta fotografica qua, secondo me viene una figata. Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando? Sì. Qua più di 30 secondi non passano. Alziamoci che adesso si alza subito. A meno che non ci sia coincidenza. No, si è alzato subito. Guarda quello.